Ciao, hai un minuto? Vogliamo dirti una cosa. Crediamo nel tuo futuro. E crediamo anche che, se scegli di imparare l'inglese, dovresti farlo in una scuola internazionale e non a casa con un'app. Che se non incroci nessuno camminando, non è per via della quarantena, ma perché ti trovi sulla spiaggia più bella del mondo. E che l'unica maschera che dovresti indossare è quella per fare snorkeling. Che se devi fare una videochiamata è perché i tuoi amici si trovano a 18.000 chilometri da te. E vogliamo farti vivere tutto questo. Ora è il momento di rimanere a casa, ma quando avrai l'opportunità di vivere la migliore avventura della tua vita, avremo tutto pronto per te. Quando tutto questo sarà finito, l'Australia non sarà più lontana di prima. E noi ti staremo vicino come sempre. E noi ti staremo vicino come sempre.